aggiornamento dei miei investimenti oggi in questo video vedremo a che punto sono i miei investimenti il piano di accumulo che ho avviato un paio di mesi fa e in generale tutto tutto quello che concorre alla mia situazione finanziaria siamo arrivati a 1410 iscritti il target dei 2000 iscritti è sempre più vicino spero che mi aiuterete in questo ma andiamo subito a vedere la situazione anzi prima mi presento ciao a tutti amici amici sono alessio serio esperto in digital economy finanza personale e vi do il benvenuto su finanza personale for dummies dove si impara ad analizzare e gestire le proprie finanze ed infine a risparmiare passiamo subito all'app get queen trovate il link per scaricarla direttamente in descrizione questo questa piccola azione quella di scaricare quest'app aiuterà questo canale a crescere ma vediamo subito come come va guardiamo il portafoglio della sua interezza quindi tutto quello che concorre alla situazione finanziaria vediamo le posizioni che ho inserito avete visto già che è in positivo ogni mese aggiorno il controvalore della pensione integrativa vediamo che è in guadagno di 140 euro non è tantissimo perché ho dovuto cambiare il profilo di investimento in corso d'opera rispetto a quando l'ho aperta però c'è da dire anche che non ho effettuato nessun versamento in passato è stata anche negativo ora adesso è leggermente in positivo ma vediamo un attimino come vanno pure gli altri investimenti da quando ho acquistato i prodotti finanziari l'unico l'unico etf che risulta in negativo è il core mci europe dell'iShares che sta perdendo 84 centesimi su 50 euro di acquisto quindi veramente poco c'è da dire però che ha rilasciato un dividendo pari a 53 centesimi quindi la perdita in realtà è molto inferiore quindi era da prevedere che dopo lo stacco del dividendo dovesse scendere un pochino dopodiché vediamo che per il comparto liquidità c'è la liquidità vincolata su cherry bank di 4000 euro che mi frutterà dopo un anno il 475 lordo che sarebbe all'incirca un 350 netto e poi la liquidità su scalable dalla quale detraggo i 5 euro mensili del piano prime e che tengo lì proprio per compensare i costi del 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 piano e per fare per avere una piccola percentuale su una liquidità che è totalmente svincolata che posso prelevare quando voglio mi dà all'incirca il 2,6 per cento lordo ma in realtà tra i vari versamenti che ho fatto durante i periodi promozionali dovrebbe essere qualcosa in più in base all'importo che ho versato nel periodo promozionale per adesso un total return di 152 euro ho detto è poco diciamo che il piano d'accumulo ancora è molto giovane ci sono in previsioni diversi dividendi vediamo nel mese di settembre previsti sono 5,35 euro 5,35 novembre bassi lo 0,20 centesimi e dicembre poi quasi 5 euro se andiamo all'analisi globale vediamo che la parte maggioritaria è appunto quella del cash della liquidità 75 per cento quasi poi la polizza al 21 per cento e poi etf il 4,26 per cento veramente molto poco ovviamente non vado a guardare le analytics della situazione globale perché ovviamente avendo inserito liquidità mi dà per la maggior parte quindi è inutile che vi faccio vedere la situazione degli investimenti dal profilo aggregato ma andiamo su quello di scalable capital per farvi vedere intanto come sta andando il pack dopodiché per vedere pure la percentuale di allocazione sia per regione che per settore eccetera eccetera il pack sta andando abbastanza bene da quando l'ho acquistato è stato abbastanza altalenante da quando ho iniziato i primi versamenti però attualmente mi ha dato un rendimento di 5,66 euro pari a circa lo 0,80% non è tantissimo alcuni prodotti hanno performato molto bene altri un po' meno vediamo che la parte più grossa è l'iShares e l'IWDA che serve l'SWDA che sono 300 euro investiti e mi sta fruttando 8 euro circa poi c'è gli APD ho investito 100 euro e quasi 2 euro di guadagno il Vanguard, il famosissimo Vanguard VHIL a distribuzione 1,37 euro di guadagno su 100 euro e lo Spider sempre sui dividendi europei dove ho versato solo 50 euro e si alternerà con l'iShares e il Core e poi l'UK Dividend ETF e l'iShares, UCD, sul quale ho versato 100 euro e sta performando positivamente 1,07 euro in positivo il Total Return attualmente è di 12 euro a 0,8 come vi ho detto ci sono previsti diversi dividendi che probabilmente man mano aumenteranno perché i versamenti mensili continueranno a crescere e andiamo a vedere appunto le Analytics, quelle di cui vi parlavo prima, la suddivisione del portafoglio tutti i prodotti sono ETF, non guardiamo la regione perché fa una macro divisione, andremo a vedere poi i paesi dove investo ma andiamo a vedere i settori quasi il 23% Financials se premiamo sul settore che vogliamo vedere vi fa vedere la suddivisione per prodotto in questo momento non ci interessa quindi Financials quasi 23%, quasi 15% Information Technology Industrials 11%, Consumer Discretionary 10,69% Healthcare quasi 9%, Materials 8,50%, Consumer Staples 8,23% Energy 6%, Utilities 5%, Communication Services 2,88% e altri 1,15% quindi è molto più sbilanciato sui Financials e sull'Information Technology perché comunque gli ETF che ho comprato tra cui c'è un unico ETF ad accumulazione World diciamo che investe molto di più sull'Information Technology e sui Financials ma a seguire ci sono altre percentuali gli asset sono totalmente azionario io attualmente non ho inserito obbligazioni in portafoglio conto di inserire un ETF obbligazionario però ancora in realtà sono abbastanza indeciso io preferisco un'operatività un pochino più spinta anche se comunque le obbligazioni in questo proprio periodo storico rendono abbastanza bene quindi forse in un'ottica di breve termine o comunque in un'ottica non troppo spinta con una gestione del rischio modesta forse sarebbe meglio inserirle in portafoglio perché performano abbastanza bene ne è la dimostrazione anche che alcuni conti deposito sulle somme vincolate offrono rendimenti altissimi come c'è Rebank voglio dire il 4,75 su una somma vincolata a 12 mesi è tantissima roba anche se poi viene tassata al 26% però comunque sia è un rendimento di tutto rispetto forse si potrebbe pensare all'inserimento di qualche bond, BTP qualcosa che renda anche attorno al 4% perché il vantaggio che ne deriva non è soltanto le cedole che stacca ma anche il fatto che venga tassato al 12,50% anziché il 26% quindi c'è un ritorno fiscale di tutto rispetto dopodiché vediamo la suddivisione per paese quasi 35% USA a seguire United Kingdom 18,43% a seguire Giappone 7,50% Australia 7%, Ader 5,53% Germania 4,15% Francia 4,12% Hong Kong 3,68% poi Svizzera, Canada una piccola porzione anche d'Italia Olanda, Irlanda, Singapore Finlandia, Belgio Spagna, China Taiwan, provincia di Taiwan cinese Denmark, Svezia Nuova Zelanda Portogallo Bermuda Austria Israele eccetera eccetera ovviamente più scendo più le porzioni sono ridotte però come possiamo vedere abbiamo un qualcosa di tutto non esposo la politica Equally Weighted del professor Coletti che vi consiglio di andare a vedere il suo canale una persona molto particolare magnetica direi a volte che io seguo personalmente e che ha la teoria di pesare in maniera equa quasi tutti i paesi e i settori all'interno dei suoi investimenti più che altro sui paesi ovviamente non acquista cose di tutto però diciamo di quelli che mantengono un certo margine di sicurezza sì vediamo invece come è suddiviso per valuta il dollaro principe di questa suddivisione 36,47% della sterlina 18,73% euro quasi 16% lo yen giapponese 7,57 dollaro australiano 7% a seguire Hong Kong franco svizzero altri che non so cosa siano in realtà andrò ad investigare dollaro canadese dollaro di Singapore euro corona danese corona svedese il dollaro di Taiwan il won dollaro in Nord-Zealanda e la corona norvegese quindi dollaro abbiamo detto regna sovrano con una buona fetta anche di sterline diciamo che le prime tre currencies che sono protagoniste del mio portafoglio sono dollaro ovviamente americano sterlina e euro però cerco di tenere all'interno anche una buona fetta di tutto il resto detto questo abbiamo visto l'analisi qua ci sono tutte le transazioni vi ricordo sempre di scaricare GetQueen questa è la mia versione diciamo aperta quella quella a pagamento il piano a pagamento però vi ricordo che potete scaricarla e invitare gente se la gente scarica la gente che invitate scarica l'applicazione avrete dei mesi gratuiti delle di questa di questo profilo questo profilo totalmente aperto comunque sia per monitorare diciamo investimenti anche la la parte free secondo me offre notevoli notevole informazioni potete cercare azioni funziona anche come social potete condividere il vostro portafoglio è abbastanza interessante ovviamente il mercato italiano ancora va un pochino tra virgolette vergine però è in crescita anche quello anche per avere momentaneamente qualcosa che tenga conto di tutte le vostre operazioni devo dire che è una un'applicazione degna di nota scaricate il link in descrizione aiutate il canale e sicuramente riuscirete ad ottimizzare i vostri investimenti o comunque la gestione dei vostri investimenti detto questo vi ricordo ancora di iscrivervi al canale vi ringrazio per quelli che già l'hanno fatto e per chi guarda i miei video per me è importantissimo mi dà motivazione a continuare così lasciate i commenti e anche le vostre critiche sono ben accette detto questo da finanza personale for dummies è tutto e dal prossimo passo verso una gestione consapevole del vostro denaro a presto